Buongiorno dalla campagna, oggi ti faccio vedere le attrezzature minime per iniziare anche a pensare ad un piccolo orto. Sicuramente per tanti di voi potrà essere un video magari noioso o anche scontato perché magari è già qualche anno che fai l'orto quindi dici oh ma io le so le attrezzature che mi servono e quelle che no, però magari ti posso dare qualche consiglio e non lo so, anche far vedere qualche attrezzo che magari non avevi. Allora si parte piano piano, passo dopo passo, ti dico gli attrezzi, quelli indispensabili che anche con poco compri tranquillamente e poi magari qualche attrezzatura in più, anche meccanica, che magari compri dopo qualche annetto che contivi l'orto. Allora si va nel capannone del rimessaggio dove tengo tutte le attrezzature. Questo è il mio capannone di rimessaggio, bello grosso, qui però voglio dedicare un video apposta dove ti faccio vedere, ti spiego a modino insomma tutto quello che c'ho perché c'è un sacco di roba. Oggi però ti ho detto si parla delle attrezzature. Aspetta, questo è il suo posto, metto qui se no il mio marito sarà abbia perché ogni cosa deve stare al suo posto. Vieni, ti faccio delle attrezzature. Allora qui ognuno può utilizzare il contenitore che gli pare. Noi avevamo questi qui che non sono altro che dei vecchi bidoni della spazzatura o senza ruote magari sfondati dentro quindi per contenere la spazzatura sono un po' scomodi e allora li abbiamo utilizzati come rimessaggio. Partiamo subito dalle attrezzature, quelle manuali. Come ti ho anticipato all'inizio potrà essere banale però sicuramente nel tuo orto non può mancare un rastrello. Ah, ti dico che ogni attrezzo, anche qui sembra stupido dirlo, ma ogni attrezzo deve svolgere il suo compito. Ad esempio mi viene in mente un esempio un po' curioso. Non è che possiamo pettinarci i capelli con un rastrello, come non possiamo neanche rastrellare delle foglie con un pettine. Hanno tutte e due i denti però insomma un po' diverso no? Quindi con un attrezzo così, con dei denti belli larghi ci facciamo dei lavori dove riusciamo a raccogliere determinate cose. Però allo stesso tempo ci vuole anche un rastrello così con i denti più morbidi e un pochino più ravvicinati tra di loro. Ad esempio ci raccolgo le foglie o qualcosa insomma di più piccolino. Come ad esempio molto fondamentale è avere sia un badile, che ci si fanno determinati lavori tipo ci si ricopre magari qualcosa con la terra, ci si ricoprono i semi. C'è chi usa il badile al posto della vanga, ma le funzioni sono diverse. Chi vuole scavare una fossa si scava con la vanga, non si scava con il badile. Ora questo qui nel particolare è un vanghetto, è più piccolino perché io lo sai lavoro sulla sabbia. Però se è un terreno più duro insomma ci vuole un bel vangone. So sicuramente che qualcuno me lo dirà, sono belli sporchi anche se me ne hanno tenuti male perché arriviamo dalla stagione estiva, dalla lunga stagione estiva dove si sa anche nell'orto c'è tutto da fare tranne che pensare a queste cose qui. Di questa cosa qui se ne occupa Francesco, quindi farò un video apposta dove farò vedere che li sistema tutti, li prepara a modino e li ripulisce tutti. Altro attrezzo fondamentale, come mi garba da morire, la zappa. Anche qui esiste di diverse misure, questa non è neanche tanto grosso, esiste anche più grossa e ci si fanno determinati lavori. Magari ci si può anche togliere l'erba oltre che a fare anche una fossetta così veloce veloce. Però per fare altri lavori, magari più in superficie e più di precisione, c'è questo attrezzo qui che non è altro che un sarchietto o io lo chiamo anche zappettino. Lo vedi è bello lungo così si lavora anche proprio in vita e praticamente qua in cima c'è una lama che anche questa va affilata via via che si utilizza. È molto comoda per levare l'erbetta appena spunta quella proprio in superficie sopra terra. Viene via proprio bene, si staccano bene le radici, viene un bel lavorino. Quindi questo te lo consiglio. Ah, allora magari dopo ti faccio passare tutti i nomi delle attrezzature e ti lascio anche qualche link qua sotto in descrizione che puoi trovare anche qui su internet. Allora, questa qui non è diciamo proprio indispensabile se devi iniziare per di domani a fare l'orto. Il resto te lo consiglio vivamente. La forca, poi vedrai che piano piano ti serve anche quella, esiste con tre denti o anche a quattro che è quella lì. Anche qui dipende quello che ci devi prendere, se riesci a prenderla così che sono belli larghi, se no quella lì. C'ha denti più stretti. Ah, addirittura qua guarda, lo uso pochissimo quindi questo non è che te lo consiglio tra i primissimi. Un altro rastrellino molto piccolino, sembra quasi per i bimbetti, però può essere comodo anche questo. Ah, come vedi quando ti si rompe magari il manico, specialmente se sei magari un uomo, qui si dice un po' ghiozzo, cioè un po' rude. Potresti rompere i manici. Lui ride perché lui li rompe sempre. Però cosa si fa? Invece di ricomprare proprio il pezzo, il ferro che è questo qui sopra, prendi un bastone, anche un manico, un vecchio manico di scopa e guarda, con un semplice chiodino ce lo fermi così. Ho anche un piccone, ma questo non lo uso mai, un'altra zappetta, un'altra zappa un po' più piccolina dell'altra, ma anche questa è scomoda, non la uso quasi mai. Altri badili, perché anche se sono vecchi, Francesco li dispace e buttarli via, magari poi li riaggiusta, insomma in qualche modo si riusano sempre. E poi anche lì dipende, se sei solo nell'orto magari ti aiuta o la tua moglie o il tuo marito o qualcun altro, quindi le attrezzature magari si devono quasi moltiplicare. Per lì quando si fanno dei lavori che c'è da sgomberare qualcosa prima possibile o da fare dei lavori, insomma, di volata, ci vogliono due attrezzi, magari due rastrelli o due vanghe o due zappettini, due sarchietti, insomma, quello sarà solo. Poi esistono attrezzi che uno si può anche inventare da solo e costruire da solo, ad esempio questo qui che l'ha fatto Francesco. L'ho fatto vedere tantissime volte, è praticamente come un rastrello con quattro denti a distanza di 25 centimetri circa e questo qui io lo utilizzo per fare le file sulle porche, per andare bella dritta e per piantarci l'insalata, le cipolle, queste cose qui in generale. Però per dire, se a te ti viene in mente un attrezzo, per dire, se a fare un lavoro dici certo mi servirebbe un qualcosa che mi fa tre file, per dire, magari se lo costruisci anche da solo, con poco, ora mi viene in mente il retino per dire a cappa farfalle, no? Cioè magari chi lo riutilizza per raccogliere le foglie o insomma un po' cosa. E si riutilizza tutto, quindi, insomma, se hai inventiva e voglia, sicuramente qualcosa a mente ti ci viene. Poi prima di farti vedere le attrezzature meccaniche, per iniziare insomma il tuo orto, almeno per iniziare se vuoi anche d'estate, sicuramente devi avere delle canne che io cerco di utilizzare anno dopo anno, quelle che mi si rompono magari ci faccio qualcos'altro, insomma comunque le tengo tutte a modino qui, le igienizzo bene. Possono essere utili per magari i piselli, i fagioli, ma soprattutto anche i pomodori, quindi tutte messe a modino qui, anche dei paletti come tutori, io le uso per i peperoni, meleanzane, insomma poi dove mi servono. E qui altre canne, vabbè qui c'è un'altra roba, e le reti, le reti per i piselli, per i fagioli, soprattutto io utilizzo queste. E poi insomma vabbè tutta l'attrezzatura, poi piano piano ti accorgi di cosa ti serve via via che coltivi, e magari te lo compri passo dopo passo, queste cose qui proprio cioè non è che occorre, se domani inizi valuta per dito, ho detto, le reti servono per i piselli, per i fagioli se non li fai, è inutile che tu li compri. Qualche cassetta messa a modino qui per metterci i raccolti del tuorto, e vabbè poi qui c'ho anche tutti i vasi che via via quando compro le piante me le metto a modino qui, e così poi le riutilizzo, magari se devo poi rinvasare qualcos'altro in futuro le tengo tutte qui. Ora andiamo a vedere le attrezzature meccaniche. Questo è un altro capannone dove ci tengo altre roba, perché ti ho detto non si butta via mai niente, qui ci sono tutti i tubi di irrigazione che non sto utilizzando al momento, però insomma che sono riutilizzabili, basta metterci dei rubinetti, questi però me li sono ammocchiati insomma da diversi anni, non è che te ti devi comprare una valanga di tubi di irrigazione, via via che ti servono, te li compri, cerca di utilizzare magari quelli che hai già, e se no te li conservi tutti a modino. Ovviamente sono tubi di plastica, quindi stai attento al troppo caldo e al troppo freddo, perché se no si sciupano e si spaccano e quindi poi insomma l'acqua dentro non ci sta. Allora per quanto riguarda l'attrezzatura meccanica, ho questi due attrezzi qui, ti faccio vedere quello lì, che non ti consiglio perché secondo me è un molto, insomma uno strumento molto pesante, poco maneggevole, quindi te ne farlo anche poco, addirittura vabbè c'avrei anche l'attacco dietro per l'aratino, per il rincalzatore, per rincalzare le patate e altri lavori insomma, quello è proprio un motocoltivatore. Insomma io amo da morire questa motozappina qui, tutti me la invidiate però purtroppo so che non la fanno più, ora mi voglio mettere alla ricerca, insomma di una motozappina così, monoruota, funzionalissima, cioè non è di quelle che magari ti slittano, cioè questa qui è proprio perfetta, io la uso, cioè non è per, ti dì, ma io non è che sono gracilina, però la porto tranquillamente. Un consiglio che ti do, torna male sempre quando si avvicina l'autunno e l'inverno, comprare delle attrezzature che poi si usa poco appunto durante l'inverno, le attrezzature si usano più in primavera, estate, queste cose qui dicevo, però il momento ideale per l'acquisto sarebbe adesso perché costano un pochino meno, mentre quando si avvicina la primavera tutti sa voglia di fare l'orto eccetera e i prezzi sono un pochino più rialzati, quindi ti consiglio se devi comprare qualcosa magari valutalo adesso, però considera che questa attrezzatura qui non ti serve proprio per iniziare domani, io ti dico così, la puoi trovare anche a noleggio, ci sono, ora se abiti vicino alle campagne ci sono delle officine che riparano anche questi attrezzi qui, che magari te le danno a noleggio, così le provi, guardi qual è per te la migliore e poi magari passi all'acquisto. Il mio consiglio prima provala, perché in tanti mi dite, ma io ho comprato questo attrezzo però mi sono trovato male, quindi prima provalo, se riesci a noleggio, così poi vai sull'acquisto tranquillo. E poi per ritornare a questa motozappina qui, non è che ve la sponsorizzo perché non vi faccio vedere neanche di che modello è, però ci sono innamorata e lo sapete io la utilizzo per lavoro, non è che ci faccio un orticello, quindi ha un utilizzo anche professionale e la può usare tranquillamente, insomma, anche un uomo, perché non è che è un giocattolino, si utilizza benissimo. Anche perché, qualcuno sicuramente lo sa già, io non ho un trattore di proprietà, infatti non vedete mai che sono alla guida di un trattore, ma chiamo un terzista. Questo potrebbe essere un video, secondo me, molto interessante per chi vuole aprire un'azienda agricola, valutare l'acquisto di un trattore. Quindi magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché secondo me, insomma, è un ottimo punto per il rifletto, cioè non è che per forza chi ha l'azienda agricola, bisogna valutare, insomma, ci sono un sacco di cose da valutare. Chiudendo un attimo questo video, dicendo che un altro attrezzo fondamentale sono le mani. Guarda, qui davanti c'ho la coltivazione degli spinaci, che questi qui li ho già puliti tutti a mano e ora ci mancano da pulire questi qui. Questa porca qui, lo vedi, è questa e anche, sì, l'ultima di là, un pochino c'è sempre dell'erbetta. Quindi, olio di gomito per fare qualsiasi lavoro nell'orto, se no anche le attrezzature che ho fatto vedere prima non si utilizzano. Quindi, da questi bellissimi spinaci che non ci incastrano niente con il video di oggi, io vi saluto e vi ringrazio, spero di non essere stata noiosa, anzi di avervi dato dei consigli utili. Vi ho detto, fatemi sapere qui sotto nei commenti anche per quanto riguarda il trattore. Iscriviti al canale, lascia un bel mi piace e noi ci aggiorniamo, alla prossima!